Questa griglia di rotella puoi impostare il volume e io qua il 100 corrisponde a 1.000 perché le unità in questa pipetta non sono precise quindi non vengono segnate. Quindi questo vi dicevo è questa finella, l'ho preso l'obiettivo e l'uso 1.000. Ora iniziamo a giocicchiare con quello, dividiamo in dieci parti, inizio a dieci parti avremo al volo, questo è 1.000 microlitri, questo è 100 microlitri. Adesso dividiamo questo in dieci parti, arriviamo a prendere quanto? 10 microlitri, poi lo dividiamo in dieci, vediamo se riusciamo a prendere un microlitro, per un microlitro prendiamo la pipetta, guardate lì, non se vuoi la pipette. Casi. Ah!